Ciao amici, ben ritrovati nel mio canale Life Adventures. Nei video precedenti abbiamo visto quanto bella sia la natura di mamma Etna, abbiamo visitato Milo, i crateri silvestri e la grotta dei ladroni. Ma Etna è anche divertimento, qui si trovano infatti due parchi davvero unici, Parco Avventura Etna e la Sicilia in miniatura con il parco tematico giurassico. Il Parco Avventura Etna è il più grande parco avventura del sud Italia realizzato all'interno della Pineta del Parco Scarbaglio, nel comune di Milo. Sono presenti 17 percorsi, tutti dotati di linea di vita continua o moschettoni intelligenti Click It. A questi si aggiungono due pareti d'arrambicata, una per bambini e l'altra da fare con imbrago che offre anche l'adrenalinica possibilità di un lancio nel vuoto. Poco distante si trova il parco tematico Sicilia in miniatura. Un parco culturale dedicato interamente alla Sicilia. Castello Urcino, Catania. Italia in miniatura, zafferone etnea. E questo è il castello di Lombardia, Etna. Una gemma dove arte, storia e leggende si sposano in perfetta armonia con i tesori che Madre Terra ha generosamente voluto adorarci. Musica Abbiamo anche trovato la riproduzione miniatura del castello di Grest, dove siamo stati tempo fa con Nicola, vi lascio il video qui sulle informazioni da qualche parte. Eccolo qua, castello di Grest. Ora procediamo il giro nel parco giurastico. Un'altra, un'altra, un'altra. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.